Allora a nome del CILP le do il benvenuto do il benvenuto alla professoressa Katyusha Casagrande buongiorno professoressa e adesso brevemente illustrerò il suo curriculum la laurea in 1999 docente di ruolo dall'anno scolastico 2000-2001 dal 2003 è in servizio a tempo indeterminato presso il liceo dal piazza di Feltre dove insegna materie letterarie italiano storia geografia educazione civica e latino ha avuto esperienze di studio all'estero è docente CIL per un approccio metodologico rivolto all'apprendimento integrato di competenze linguistico comunicative e disciplinari in lingua straniera secondo la normativa secondo la normativa del 2010 che prevede l'obbligo di insegnare nel quinto o nel quarto anno della scuola superiore di secondo grado una disciplina non linguistica una dnl in lingua straniera si è occupata di educazione alla cittadinanza con progetti vari in particolare sui temi della conoscenza della costituzione dei diritti umani e della memoria da due anni affianca il referente per l'inclusione nel del liceo dal piazza in qualità di referente per dsa e altri BES ho dimenticato qualcosa professoressa no direi di no in realtà io ho curato diciamo una sorta di protocollo CIL più che ho realizzato anche qualche progetto ecco più che essere docente CIL ok ha realizzato comunque dei progetti secondo il piano CIL bene allora se non ha altro da precisare cominciamo con la nostra intervista va bene allora l'ultima l'ultimo aspetto del suo curriculum diceva che da due anni affianca il referente per l'inclusione del liceo dal piazza in qualità di referente per dsa e altri BES che cosa significa essere referente dsa e con quali figure professionali eventualmente si rapporta sì ehm come ha ricordato lei io come referente dsa collaboro con il collega referente per l'inclusione e in pratica ho il compito di promuovere le attività connesse all'inclusione di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento dunque dsa e con altri bisogni educativi speciali e tra le altre cose devo coordinare i consigli di classe nella stesura dei piani didattici personalizzati per gli alunni con dsa e altri BES ehm informando sugli aspetti normativi eventualmente consigliando eh sulle strategie metodologiche didattiche eh opportune eh poi devo supportare i colleghi nell'accoglienza eh degli studenti con disturbo specifico di apprendimento o altri BES e mh devo fare da raccordo in sostanza tra scuola famiglia e strutture del territorio eh in pratica mh promuovo il dialogo tra le componenti ehm dell'istituzione educativa quindi i docenti, i genitori, i dirigenti, il personale amministrativo, cura il rapporto con le realtà territoriali e locali per esempio Citi, l'ufficio scolastico, la sezione ID Belluno e servizi sanitari. Ok ha già buttato vari semi che dopo svilupperemo nel corso della nostra della nostra intervista. Allora eh adesso le chiederei può presentare brevemente il liceo dal Piazza dove lavora soffermandosi sul piano per l'inclusività in particolare che fa parte integrante del POF piano dell'offerta formativa triennale e che è stato da poco aggiornato mi pare in gennaio e prima di darle la parola mi piace eh ricordare la citazione con cui si apre il vostro il vostro piano per l'inclusività che eh è un principio che esprime un principio a cui si ispira poi l'attività didattica della vostra scuola. È una frase di Martin Luther King e mi piace leggerla. Potremmo essere arrivati da navi diverse ma ora siamo nella stessa barca. Ecco detto questo le cedo la parola. Eh sì allora eh liceo statale dal Piazza oggi conta quattro indirizzi eh lo scientifico tradizionale, lo scientifico applicato ospitati nella sede centrale di via Colombo e poi il classico e linguistico ospitati invece nella sede di via Tofana. Eh l'indirizzo linguistico propone due diversi percorsi in lingua straniera, uno con francese e tedesco, l'altro con cinese e spagnolo. Eh attualmente eh gli allunni sono seicento venticinque distribuiti su circa trenta classi, sono trentuno ehm e i ragazzi provengono principalmente da Feltrino, Primiero, Sinistra, Destra, Piave fino all'incirca diciamo Santa Giustina, Borgoval, Belluna. Dunque il bacino d'utenza è piuttosto piuttosto ampio. Ehm per l'appunto ecco il motto che abbiamo scelto che figura nel piano dell'inclusività è quella quella frase di Martin Luther King da potremmo essere arrivati da navi diverse ma ora siamo sulla stessa barca perché eh al di là del conseguimento dei risultati che pure insomma è importante l'obiettivo del liceo è comunque eh creare un senso di comunità. Ehm ecco non mi soffermerei a lungo eh sul eh sul piano per l'inclusività perché immagino avremo modo poi di declinarne eh gli aspetti nel corso della conversazione però mi preme ricordare che ehm creare un senso di comunità vuol dire prima di tutto dare valore a tutti eh quindi gli alunni, le famiglie, i docenti naturalmente e eh in secondo luogo eh promuovere la partecipazione perché in fondo fare inclusione ehm significa questo no? Creare le condizioni perché ognuno cresca e contribuisca alla vita della scuola secondo le proprie possibilità. Quindi ecco ricorderei questo sopra sopra a tutto piuttosto che magari scendere in dettagli. Ok molto molto interessante. Volevo solo aggiungere 625 studenti ha detto no? e mi pare se non ho letto male che meno del 4 per cento un 3,8 virgola eh 3,85 mi pare per cento degli studenti ha dei problemi, dei disturbi a livello eh di spettro autistico, disabilità certificate, BES e DSA. Comunque di questo parleremo dopo. Allora nel piano per l'inclusività si parla e anche lei prima ha citato studenti con BES. Allora ce ne sono nella sua scuola. Chi sono? Ce ne vuole illustrare le caratteristiche che ritiene più importanti? Sì ehm beh volentieri. Diciamo nel nel nostro istituto un po' come in tutte le realtà scolastiche ci sono stati, ci sono, ci saranno eh studenti con bisogni educativi speciali di varia natura. Ehm più che scendere magari in in particolari ecco forse è opportuno chiarire che cosa si intenda eh con bisogni educativi speciali. Ehm quindi diciamo eh così per chiarire che i BES comprendono eh la disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 92 eh il disturbo specifico di apprendimento certificato ai leggi eh scusi ai sensi della legge 170 del 2010 e sono quattro. La dislessia che si manifesta nell'area della lettura, la disgrafia e la disortografia che si manifestano nell'ambito della scrittura e la discalculia che si manifesta nell'area del calcolo. Ehm i disturbi specifici compresi diciamo nella legge 170 sono questi. Eh sono però contemplati tra i bisogni educativi speciali altri disturbi evolutivi specifici per i quali esiste una documentazione medica eh per esempio eh disturbi del linguaggio, eh disturbi della coordinazione motoria, eh disturbo dello spettro autistico se non rientra già nelle casistiche previste dalla legge 104 eh disturbi dell'attenzione eccetera. Ehm eh inoltre c'è un'area eh abbastanza ampia che è eh denominata area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e quest'area copre mh diciamo svariate eh situazioni che possono variare dalle crisi affettive a fenomeni di immigrazione. Eh quindi è un'area nella quale si possono raccogliere diverse eh situazioni diciamo eh per questi studenti ehm si deve direi o si può eh prevedere mh un percorso mh che tenga conto eh delle loro specificità, delle loro caratteristiche particolari. Certo ed è proprio da qua che partiamo con la prossima domanda quindi anche voi come docenti del liceo dal Piazza stendete i famosi PDP cioè i piani didattici personalizzati. Ce ne vuole parlare? Allora ehm per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento è previsto ehm un piano didattico personalizzato eh compilato dal consiglio di classe in raccordo con la famiglia. Eh per gli studenti con una disabilità si compila annualmente quello che viene chiamato il PEI, il piano educativo individualizzato eh in un raccordo tra scuola, ASL, renti locali, per esempio servizi sociali. Eh mentre per gli altri BESS si compila un piano didattico personalizzato quando il consiglio di classe ritiene ci siano le condizioni previste per gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Ehm il PDP va poi sottoposto a monitoraggio continuo perché di fatto è uno strumento di inclusione e la logica dell'inclusione implica un'evoluzione continua. Ehm in sostanza mh il PDP rappresenta l'alleanza diciamo così tra il ragazzo eh la famiglia gli insegnanti gli specialisti. Ehm la coordinazione eh la collaborazione sono indispensabili per creare benessere e dunque creare anche successo no dello studente e il quale studente non è solo oggetto ovviamente di queste attenzioni ma è anche protagonista e responsabile del suo benessere e del suo successo. Perciò hm diciamo anche se la sua firma non ha valore legale se lo studente è minorenne eh noi chiediamo che anche lo studente firmi il suo PDP insieme agli altri attori che sono appunto i docenti, la famiglia e dirigente proprio per una ehm assunzione di di responsabilità. Sì mi piace molto il fatto che facciate firmare il PDP anche allo studente, ben si tratta di un liceo quindi sono ragazzi grandicelli, non tutti sono maggiorenni perché al centro di ogni azione educativa non ci deve essere né l'insegnante né eh altri altre figure scolastiche ma proprio lo studente. È quella rivoluzione copernicana che a un certo punto è avvenuta per fortuna nell'ambito della scuola. Perfetto. Benissimo potrebbe illustrarci adesso un PDP soffermandosi per esempio sulle misure compensative e dispensative sugli strumenti usati per esempio da un da uno studente con dislessia? Sì ehm allora come abbiamo detto eh il PDP viene compilato dal consiglio di classe quindi i consigli di classe individua i bisogni dell'alunno e le modalità per far fronte a questi bisogni. Eh intendiamoci tutti gli alunni hanno potenzialità, difficoltà di cui la scuola tiene conto, a cui la scuola deve rispondere. Nel caso di studenti con un disturbo specifico di apprendimento per esempio la dislessia la scuola formalizza eh interventi individualizzati, personalizzati insomma eh adottando anche queste misure eh dispensative e compensative. Ehm chiarisco prima alcuni aspetti eh il PDP per uno studente con DSA redatto dai docenti in collaborazione con la famiglia e la famiglia è sempre una fonte preziosa di informazioni. Ehm si fonda però a differenza hm per esempio di PDP per altri BES eh si fonda sempre necessariamente su una diagnosi specialistica. Infatti subito dopo l'anagrafica dell'alunno c'è una voce elementi diagnostici che recepisce il cosiddetto eh profilo di funzionamento e qui viene riportata la descrizione dell'abilità di lettura, di scrittura, di comprensione del testo, calcolo e così via. Eh poi eh si trova brevemente la descrizione delle caratteristiche dell'alunno, del suo comportamento eh per esempio l'autostima, gli atteggiamenti nella relazione eh l'accettazione rispetto delle regole, la motivazione eh la consapevolezza anche del proprio modo di apprendere delle proprie difficoltà. Ehm poi c'è una voce che riguarda i punti di forza del ragazzo, gli aspetti da valorizzare chiaramente sono quelli poi su cui fare leva no per veicolare successo formativo e quindi si passa a individuare le misure compensative e dispensative che fondamentalmente servono ad aggirare il disturbo no? Eh ponendo ehm lo studente con disturbo specifico di apprendimento sulla stessa linea degli altri cioè eh nello stesso modo in cui io eh volendo leggere quotidiano dopo pranzo indosso gli occhiali e un'altra persona no eh così le misure compensative e dispensative ehm veicolano la prestazione senza però nulla togliere eh al processo cognitivo e quindi nel caso della lettura uno studente con dislessia avrà difficoltà di decodifica quindi difficoltà a leggere in modo fluente in modo accurato e di conseguenza rispetto a questo potrebbe avere difficoltà di comprensione del testo sì dunque faticare a costruire un vocabolario delle conoscenze articolate eccetera eh il PDP dunque ehm eh prevede prevederà eh delle misure legate alla decodifica del testo che abbiamo detto nello studente con dislessia non è un automatismo eh ad esempio eh come misure compensative saranno previste eh l'uso della sintesi vocale eh l'uso di mappe concettuali l'uso di riassunti l'uso di tabelle e mh eh per realizzare queste misure compensative saranno previsti strumenti compensativi quindi PDP indicherà come strumenti compensativi eh non so i software didattici edizionari libri digitali gli audiolibri le videopresentazioni eh così via eh come misure dispensative si potranno considerare se necessario ovviamente l'esonero per esempio da lettura ad alta voce perché magari un ragazzo che fatica nella decodifica eh potrà sentirsi in imbarazzo eh e questo ovviamente gli precluderà poi in ehm un accesso sereno a al testo e a una fruizione anche piacevole insomma del testo eh si potrà prevedere anche mh questo accade ehm anche di frequente magari una dispensa dal rispetto eh dei tempi standard durante le prove ehm il PDP ecco indica anche le strategie metodologiche e didattiche che si intende attivare e mh c'è da dire questo che eh quello che funziona per uno studente con DSA funziona anche per la classe e quindi sarebbe auspicabile che non fosse previsto soltanto per lo studente con DSA eh ma che fosse esteso a tutti gli studenti per esempio eh va bene per tutti e aiuta senz'altro anche uno studente con disturbo specifico eh utilizzare differenti modalità comunicative eh attivare diversi canali sensoriali nel momento delle spiegazioni quindi la spiegazione verbale può essere accompagnata mh ormai si fa comunemente no dalla dall'immagine dal video ehm poi ecco può essere interessante comunque promuovere la conoscenza l'utilizzo di questi mediatori didattici quindi abbiamo detto le immagini di schemi le mappe e mh alla fonte di soprattutto direi eh c'è bisogno mh per tutti gli studenti di promuovere consapevolezza del proprio modo di apprendere eh la capacità di autovalutazione ehm perché mi perdoni l'espressione ma senza questo non si fa niente è vero è vero niente volevo adesso fermarmi eh su due cose che ha detto molto interessanti tutte eh sulla necessità di sviluppare l'autostima dello studente perché penso sia la condizione sine qua non eh uno una persona in qualsiasi ambito possa migliorare possa procedere andare avanti e quindi eh cercare i punti di forza di ogni studente e partire da quelli un altro aspetto che mi preme eh che mi preme sottolineare eh di tutto quello che lei ha detto è questo cioè il fatto che gli interventi compensativi che si predispongono per questi studenti che hanno delle difficoltà in qualche modo magari nell'apprendimento della lettura o della scrittura eccetera arricchiscono poi tutta la classe quindi è vero sono pienamente d'accordo con lei non dovrebbero essere limitati solo agli studenti con disturbi perché questo potrebbe aiutare anche tutti gli altri mi pare e volevo aggiungere un'ultima cosa lei parlava tra gli altri tra l'altro di sintesi vocale ecco ehm noi come centro internazionale del libro eh lo sa bene che eh produciamo tra virgolette degli audiolibri cioè sono dei donatori di voce volontari eh che leggono registrano dei libri e nell'analisi in un'analisi dettagliata che è stata fatta proprio a conclusione dell'anno 2001 eh sì 2021 scusi degli utenti iscritti che sono 2000 ben il 36 per cento sono dislessici quindi eh vuol dire che questi ragazzi che mandano i loro testi scolastici parlo solo di testi scolastici per ora mandano i loro testi scolastici al CILP eh hanno giovamento eh dalla lettura eh dalla voce umana perché eh pur essendo un testo scolastico per cui il il donatore di voce ha un atteggiamento un po' assettico diciamo non può interpretare un testo scolastico però la voce umana è certamente più calda e emotivamente più coinvolgente che non la sintesi vocale questo ma adesso passiamo eh andiamo oltre la ringrazio per tutto quello che ci ha detto molto interessante allora quando arrivano siccome si tratta di liceo quando arrivano alla scuola superiore gli studenti sono già a conoscenza di misure compensative li utilizzavano già prima hanno acquisito delle strategie magari personali per ovviare a certe difficoltà o a certe particolarità del loro apprendimento? Ma normalmente sì perché eh per l'appunto i ragazzi che approdano alla scuola superiore hanno l'esperienza di tre anni di scuola media di cinque di scuola primaria diciamo che se la diagnosi non è recente in genere i ragazzi hanno già sperimentato e hanno quindi utilizzato strumenti compensativi ehm che siano i software vocali eh gli schemi le mappe concettuali l'uso del pc per esempio per le attività di scrittura eh in genere sanno anche suggerire eh quali hanno funzionato in precedenza quali no eh per esempio uno studente con dislessia può trarre vantaggio dall'uso del pc nella stesura di un compito scritto mentre un altro no ehm questo mi porta anche a dire che nessuno studente con disturbo specifico di apprendimento è uguale a un altro questo eh non dipende soltanto dal tipo dalla severità del disturbo dipende dal fatto che nessun ragazzo è uguale a un altro e quindi eh in genere ecco il confronto con la famiglia soprattutto all'inizio del primo anno è prezioso proprio per questo no perché si ricevono indicazioni utili sulle strategie già messe in atto e poi da qui si parte per adattare queste strategie per individuarne di altre utili ad affrontare il lavoro richiesto dalla scuola superiore e in questo ecco aiutano senz'altro anche i libri di testo. Molto interessante anche questo allora visto che lei ha citato i libri di testo passiamo proprio a esaminare un attimo quelli adottati eh dalla scuola dalla vostra scuola favoriscono l'inclusione e mi riferisco soprattutto ai libri di testo che lei utilizza vale a dire italiano storia e geografia eccetera eccetera ecco come che cosa danno questi libri di testo che possano essere di aiuto a eh l'inclusione di ragazzi con un metodo approccio particolare alla lettura per esempio. Eh sì beh ormai tutti i libri di testo in realtà propongono spunti per la didattica inclusiva eh che mh ecco cerca di valorizzare no di promuovere diversi stili di apprendimento quindi ehm nei libri di testo si trovano direi comunemente ehm un linguaggio accattivante eh il colore mh colore molto colore per evidenziare i concetti chiave eh o per esempio nella declinazione latina le desinenze eh ecco che questo va bene no per uno studente con disturbo specifico ma va benissimo eh ovviamente per tutta la classe eh poi si può usare il colore nella pagina per differenziare i contenuti eh gli approfondimenti rispetto al testo principale mi viene in mente adesso ehm il colore nelle mappe per gerarchizzare l'informazione e anche questo è molto utile a uno studente con un disturbo ma in generale a tutti coloro che privilegiano il canale visivo non verbale e poi ecco sui libri di testo si trovano schemi eh si trovano già predisposte delle mappe per lo studio a volte complete a volte da completare quindi per finalizzare un po' anche lo studio domestico eh spesso vengono proposte carte dei saperi fondamentali ehm ecco al libro di testo cartaceo oggi vengono accostati eh o dei fascicoli ad alta leggibilità eh oppure il libro digitale eh libro digitale è interattivo eh è integrato con audiolettura eh di alcuni o di tutti i brani proprio perché come lei ricordava prima eh la voce umana anche se tra virgolette asettica è senz'altro preferibile eh no a una voce di sintesi eh certo poi ci sono dei video eh ci sono risorse multimediali a volte mh è disponibile non nei nostri ma a volte è disponibile anche una traduzione simultanea multilingue eh quindi sono sono piuttosto ricchi eh spesso mh la accessibilità viene migliorata dalla cosiddetta modalità liquida eh del libro digitale quindi la visualizzazione della pagina può essere mh adattata allo strumento che si sta utilizzando e poi si possono modificare gli sfondi, l'interlinea può essere modificato, il tipo di carattere può essere modificato, la dimensione può essere modificata e mh ecco ehm strumenti come ehm la l'audiolettura o l'audiolibro eh in in toto insomma vengono mh scusi se mi ripeto un po' ma eh vengono incontro eh all'esigenza di uno studente con un bisogno educativo speciale con un disturbo specifico però eh risultano davvero efficaci in generale perché sono più coinvolgenti sono ehm anche meno ansiogeni eh no l'ascolto di un brano, di un romanzo ehm eh dalla voce di qualcuno è più eh affascinante ehm e più rilassante se vogliamo che la lettura magari in cartaceo o su di reader eh c'è anche il vantaggio di non affaticare la vista no già in questo periodo messa a dura prova dall'altro sì lei ha citato il romanzo eccetera quindi al di là dello studio dei manuali che mi pare siano molto arricchiti rispetto al passato proprio per venire incontro alle difficoltà a chi ha delle difficoltà ma penso che poi vadano bene a tutti no perché stimolano l'attività di tutti allora al di là dello studio dei manuali in che modo viene stimolato nei ragazzi il piacere della lettura perché soprattutto in un liceo ma comunque il piacere della lettura è fondamentale anche in un'ottica inclusiva. Ahm dunque mh parlando del piacere della lettura diciamo che non tutti i ragazzi approdano alla scuola superiore come lettori formati anche se mediamente l'abitudine a leggere è abbastanza diffusa. Normalmente la scuola promuove la conoscenza dei classici antichi, nuovi no? Assegnandone la lettura mh può essere mensile trimestrale insomma dipende un po' anche dal eh dagli studenti eh però come diceva Pennac no il verbo leggere non supporta l'imperativo certo ehm perciò ecco diciamo la lettura domestica la la successiva discussione in classe non sono sufficienti a comunicare poi il piacere di leggere e quindi bisogna un po' trovare altri canali eh diciamo che ecco per i testi di studio come promessi sposi mh spesso adottiamo sistema della lettura più voci perché è un pochino più più vivace più coinvolgente ehm insegna anche all'insegnante no se lo studente sta comprendendo quello che legge oppure se è richiesto un po' di mh spiegazione in più. Ehm inoltre ecco si può ehm prevedere l'ascolto o l'ascolto di testi mh letti da bravi attori ormai in commercio si trova molto si trova molto anche in rete per esempio ehm su Radio Rai eh ad alta voce. Sì eh poi si può ehm ecco si può prevedere anche la lettura a voce alta perché no da parte dell'insegnante eh magari disinteressata mi diceva eh più di un collega eh una lettura non legata strettamente ad un'attività didattica ma come una sorta di regalo ehm alla classe eh poi si cerca di ecco di scegliere anche eh autori libri vivi eh che trattino temi che abbiano a che fare col vissuto degli studenti o con ehm argomenti per cui i ragazzi abbiano magari manifestato un interesse mh molto novecento se possibile e mh da non disdegnare anche ehm ecco la visione magari mh di film tratti da libri magari anche solo delle sequenze per appoggiare ehm la visivo no? Alla eh all'ascolto anche se eh diciamo questo poi a volte eh viene gradito a volte addirittura eh viene preferito eh diciamo via libera all'immaginazione perché non sempre è gradita l'immagine sì perché ti fossilizza cioè tu magari ti hai ricreata un'immagine particolare del personaggio dell'ambiente eccetera e il film te la può proprio far crollare è vero. Sì la modifica dunque. Certo. Non è quello che io mi ero immaginata no? Sì. Ehm qualche collega eh organizza anche laboratori di lettura ad alta voce con un leggio eh qualche studente fa da cavia i compagni pubblico e mh a volte queste esperienze poi di laboratorio si sono tradotte in performance ehm anche anche pubbliche talvolta solo legate insomma al nostro istituto ma talora anche pubbliche ehm ecco noi cerchiamo come come squadra anche di promuovere la lettura dei quotidiani dei giornali in generale eh perché insomma naturalmente la conoscenza la comprensione della del presente è fondamentale e mh per questo ci appoggiamo mh alla lettura del quotidiano in classe cerchiamo appunto di sollecitare poi la lettura domestica ehm di di quotidiane o di riviste comunque ehm anche online possibilmente di diverso paesi sì certo. Certo. Comunque ehm parlando di quotidiani visto che è l'ultimo discorso che ha affrontato ecco desidero aggiungere una cosa cioè che eh il CILP fornisce quindici audio riviste e numerosi settimanali non quotidiani perché è impossibile che un donatore legga il quotidiano quindi ci sono c'è la possibilità di fruire di quindici audio riviste mensili e numerosi settimanali. Prima lei parlava di eh performance pubbliche o all'interno della scuola dei ragazzi che leggono eccetera beh a questo punto mi viene in mente il teatro eh perché io ho assistito a delle performance teatrali del eh vostro istituto e di opere veramente significative e importanti come per esempio le mh troiane di Euripide quindi anche questo secondo me può essere inserito in questo in questa metodologia per stimolare eh capacità diverse e l'amore per la lettura e la conoscenza di testi diversi vero? Bene. Allora eh ha qualcos'altro da aggiungere? Io le domande qui le avrei finite. Prima di concludere ha qualcos'altro da aggiungere? Ma non mi viene in mente niente. Nel senso ci sarebbe tantissimo da aggiungere. Eh lo so lo so il tempo è. Credo che il nostro tempo sì sì no anche perché diciamo non ci sono sicuramente relatori molto eh qualificati quindi non vorrei portare via. Spero di essere stata non esaustiva ma quantomeno esauriente. Sì esauriente e molto chiara molto chiara e anche molto coinvolgente. Allora se lei non ha niente da aggiungere voglio concludere io il nostro incontro eh dicendo che eh durante questa conversazione eh noi abbiamo certamente proposto un esempio virtuoso di didattica un inclusiva che mira a eliminare gli ostacoli all'apprendimento e eh diciamo favorire la partecipazione degli studenti di tutti gli studenti in particolare con DSA e BES una didattica che fa della diversità un'occasione di crescita per tutti all'interno della classe all'interno della scuola. Una scuola che come lei ha ben fatto capire come si evince anche dal piano per l'inclusività una scuola la vostra che vuole e diventa comunità e che non si limita a conseguire risultati formativi che pure sono importanti lo ha detto anche lei eh ci tengo a sottolinearlo eh però eh che non si limita solo a quelli come poteva succedere anni addietro in cui soprattutto un liceo parlando di un liceo poi si guardavano solo i risultati formativi. Diciamo è una ehm un altro aspetto che eh ho colto sia del piano dell'inclusività che da quanto lei ha detto eh il fatto che eh la vostra scuola cerca di trasformare le difficoltà in opportunità in opportunità non solo per gli studenti eh con particolari eh difficoltà di lettura di apprendimento eccetera ma per tutta la comunità classe e quindi per tutta la comunità scuola. Esatto sì esatto diciamo che ehm qualsiasi difficoltà rappresenta una sfida no? Eh sia per l'alunno sia per la famiglia anche per anche per i docenti e qualsiasi esperienza dentro la scuola è un'esperienza che ehm contribuisce alla crescita di tutti docenti compresi. Compresi è vero. Eh potremmo veramente concludere eh con la frase con cui abbiamo iniziato no? Eh saremo anche arrivati da diverse però ora ci troviamo sulla stessa barca. Martin Luther King. Perfetto. Allora io la ringrazio veramente eh professoressa Casagrande. È stato un piacere sentirla e auguro buon lavoro al suo dirigente scolastico, a lei e a tutti i docenti del suo istituto e della scuola in generale. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.